e siamo qui con federico di stefano reduce da un ottimo risultato al nazionale dice un po cosa hai fatto frate allora purtroppo ho fatto top 16 a questo nazionale sono molto insoddisfatto sinceramente perché sei insoddisfatto sì perché praticamente un anno come mai che testo è un anno che comunque testo questo mazzo e sono super convinto che sia probabilmente uno dei mazzi migliori e anche più difficili da portare e contro i quali la gente non ci sa giocare con che mazzo hai portato? ho visto di assorti dei zombie ho visto vinto di assorti proprio perché la gente non ha idea di quello che succede e quindi fortissimo poi il mazzo più esplosivo in assurdo del medal c'è da una carta gli può fare 4 o 5 quindi fortissimo e purtroppo ho perso il top 16 perché vabbè raccontati perché allora come si diceva Daniele giusto ragazzo ragazzo che ho perso Daniele che rivolgo qui in finale che salutiamo che saluto onestamente molto bravo aggirò molto bene però allora cosa ti ha detto alla fine? io devo raccontare questa storia per forza Daniele non ti offendere allora è successo questo variante lui aveva un armageddon all'attacco e una carta settata io gli ho calato uno stardust lui mi ha fatto pression giusto? io gli ho fatto 0 carti in mano e gli ho fatto bribe quindi siamo arrivati nel momento in cui gli avevo un armageddon all'attacco una carta in mano che aveva appena pescato e io questo stardust all'attacco e un pomodoro in mano avevo questo pomodoro mi schianto sull'armageddon caro spirit river dal mazzo gli scarto la carta in mano che era un Kiko vinto con strada steppasso al civile avevo mezzoggiuntore non poto vincere manco se calavano veramente top deck è il dad e con il terzo sconità era il Kiko che gli ho scartato io con lo spiace libero quindi pescato di drive quindi in più cosa ti ha detto alla fine? giustamente lui mi ha detto che il dad sarà la prima volta che lo gravi nel torneo quindi giustamente non è male perfetto però vabbè insomma alla fine giù cioè vabbè ok me raccollo cioè no però vabbè ok comunque allora va bene facci vedere un po' questa lista dove vincere il torneo sono sicuro al 100% però vabbè pazienza bravo a lui ovviamente comunque allora il mazzo appunto è zombie come ho detto e innanzitutto si lo dico allora innanzitutto innanzitutto mi ricordo che siamo tutti i giorni in live su Twitch per giocare a Yu-Gi-Oh l'Orkana soprattutto il miglior gioco che esiste ma figlio vado qua da One Piece da One Piece e complimenti a Peppe Fosse che è la seconda della regione di One Piece grande Peppe 30.000 euro quindi mi raccomando guarda il video e conto... vabbè non facciamo stare ti aspettiamo a Messina per una cena di pesce ovviamente poi ringraziamenti ovviamente a tutto il produs il team più forte del mondo diciamo dai scusate non ci sbilanciamo d'Europa d'Europa dai in particolare al mio compadero Bettino perché abbiamo fatto il mazzo insieme in tutto questo anno soltanto che giocavamo una carta di differenza e ci siamo giocati questa carta a freccette da sera prima io ho perso e quindi alla fine non cacciavo niente non cacciavo niente ognuno è giocato come volete esatto lui è stato un po' più sfortunato però ovviamente meritavamo entrambi comunque va bene e passiamo alla lista quanto passato già? 3 minuti e mezzo allora basta allora 41 latte allora partiamo con le carte più forti del mazzo che sono 3 pomodori 2 tartarughe e un zangan allora il mazzo praticamente come funziona non mi ricordo se l'abbiamo spiegato già nel vecchio video però di base di base praticamente i Ray Router sono le carte più forti del mazzo perchè ti vanno a searchare tipo l'80% di tutti i due mostri quindi appunto è l'unico probabilmente l'unico mazzo del gioco che ti permette di searchare tutte le carte alla fine poi vi saranno intanto e search altre carte quindi variemente le due combo dipendono ovviamente da quando il tuo terzo ha attacchi e da quello che è in mano cioè è un mazzo che comunque può variare ogni tipologia di turno e puoi giocare sempre due o tre turni avanti rispetto al tuo avversario lui non si aspetta mai ovviamente quello che succede in più zombie è un mazzo che non ha carte che sono guance per il turno quindi puoi permetterti di ovviamente risolvere più volte 2.000 carte broken tipo ad esempio zombie goblin che searcha tutti i zombie del mazzo tranne la tartaruga abbiamo anche fatto un cazzo e 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 posto ha speso un po' di soldi ragazzo va bene e niente insomma comunque questo poi come ultimi zombie sono un mezzuki un tore ovviamente stable e spiritripper la carta che ti ha fatto perdere la partita è la top 16 la carta che ti ha fatto perdere la partita è la top 16 e e poi è una delle carte indubbiamente più forti del mazzo che è il blood questa qua praticamente ti permette insieme a un'altra carta che giochiamo che la facciamo vedere subito anzi non la facciamo vedere dopo niente dopo lo spieghiamo dai comunque una delle carte più forti del mazzo sicuramente però grandissimo brick quindi se lo peschi gli astrini addio però vabbè non la vuoi vedere mai a prima ma no qualche volta l'ho serciato si però di base dovevo che gli tartaruga dal mazzo allora poi come i tunnel l'archi tunnel sono due dive ne giochi due perchè non vuoi mai pescarne due in mano e ne vuoi risolvere sempre una perchè se ne risolvi una hai la terza volta del mazzo quindi il due è il numero perfetto e poi la particolità come ho spiegato è che praticamente tu con Sanghan ti puoi serciare il diva e Sanghan non lo serci col pomodoro quindi praticamente tutte le carte del mazzo sono serciabili fondamentalmente la particolità è questa quindi per questo non hai tipo modo giocata hai tipo infinite cose da fare e poi Gale come ultimo tuner che è comodo perchè sempre lo porti col pomodoro e poi con un zombie combino in mano o comunque con un quarto fai il Black Rose subito oppure hai una diciamo come cosa si dice ha un utilizzo particolare col Black Rose perchè praticamente il secondo effetto di Black Rose che non conosce nessuno rimuovi una pianta dal cimitero sposti un mosto in attacco e diventa zero e tu hai il pomodoro nel mazzo che pianta e quindi poi otticappate facendo questa giocata per cui volte più volte abbiamo provato a toglierlo però comunque walk poi Roserci secondo riservi alcuni match up per fare rosanara alcuni match up per lo desidi perchè è munnizia però va bene poi è munnizia poi allora una delle migliori carte del mazzo è sicuramente Kaius perchè prima giocavamo 2 poi l'abbiamo scelta poi l'abbiamo salita 3 perchè non pesa assolutamente del mazzo si giocava da sola cioè se hai Kaius pomodoro è alto F4 e quindi sicuramente fortissimo alcuni match up ne esidi uno tipo conto frog perchè metti le maschere o conti mazzi che ti mettono muro che poi ora si gioca e comunque sicuramente sotto certa lista è per non cambiare assolutamente niente anche perché nel senso ci abbiamo ragionato per un anno quindi meglio di così secondo me non si può fare questa è l'ultima carta non mano per importanza è la carta più forte del gioco uva va che quando entra quando zika fa bot poi allora ma gira ne giochiamo soltanto 4 che sono che sono mind e brain ovviamente mazzo sincro non si possono non giocare ho fatto una bella giocata ho fatto mind prendo un bocciolo e poi book of life ne giochi solo uno perchè è pesante perchè in league game non hai mai lo zombie al cimitero quindi però è sicuramente l'unico mazzo del gioco che ha un extender quindi insomma che ha un reborn assoluto specifico e poi tipone non giochiamo tempesta perchè il resto sono tutte trappole 7,8,9,10 8,9,10 8,9,10 8,9,10 8,9,10 sicuramente il ragazzo che giocava a barn contro di me ha pensato la stessa cosa va beh fra che gioca a barn fra tempesta di me poi ragazza più forte del mazzo ultima offerta allora allora mi sono incontrato con tanti ragazzi al torneo intanto voglio dire il torneo è stato organizzato molto bene come sempre quindi sono molto soddisfatto per il comando per l'evento saluto Fancy, Mirko ragazzi che hanno organizzato comunque gestito molto bene con diversi ragazzi che comunque mi hanno fermato ci siamo salutati e quant'altro gli ho fatto due chiacchiere abbiamo detto che hanno provato la versione e dicono che comunque non gli è piaciuto tanto l'ultimo offerto come carta io comunque gli ho spiegato che non è una carta semplice da utilizzare perché ha interazioni molto specifiche e soprattutto è molto forte contro la gente che non ci sa giocare contro esatto è brutto da dire contro la gente ma che non sa giocare e che non conosce bene la carta esatto perché puoi fare determinate cose e comunque non ti aspetti ad esempio contro un frog che tra l'altro ho perso l'ultimo turno purtroppo praticamente io ho girato l'ultimo offerto lui avevo un Duster ornano settato non me l'ha fatto me l'ha fatto tipo dopo e io con questo ultimo offerto ho pagato tipo 2.000 ho pagato tutto quello che avevo in mano e l'ho qua sotticapato poi ho perso quella partita vabbè mi stanno facendo un po' così comunque insomma per dirti che comunque se non ci sai giocare magari la facevi subito e quindi non comunque insomma ci sono interazioni molto forte far perdere il timing alle carte ed è molto forte perché puoi fare cari osservi nel tunnel avversario e poi come abbiamo detto prima l'interazione è fortissima col blood perché con l'ultimo offerto ovviamente fai tipo un miliardo di combo perché sei dentro al cimitero fai blood oppure l'avversario fai blood riborni un tole fai un synchra 8 poi fai mezzuki riborni il blood fai un otto synchra 8 e compili un pandemonium quindi ed è anche forte con alcune carte che gioco di side che hanno comunque interazione con lei quindi assolutamente best carte del mazzo ma il mazzo non è dipendente da questa carta assolutamente anzi molto spesso possa essere che ne desidiamo uno questo per rispondere a chi dice che il senso ultimo offerto non vince se non avete capito un cazzo cambiate il gioco allora trappole difensive due bottomless 2 Bryson e uno spaventava MVP prima giocavamo con 3 Bryson abbiamo cambiato con questa assolutamente l'ultimo delle carte migliori in assoluto che ho mai giocato naturalmente perché proprio far prendere un attacco al turno è tipo devastante la forza è fare un attacco higato prendersi un dust tornato che non si prende l'ultima fretta è veramente fortissimo contro Black quindi è generale contro contro tanta roba trappole difensive e poi con le ultime trappole difensive è Mirror Force e TT che è comunque buco nero rapido e poi è forte perchè puoi far morire il tuo zombie goblin che seccia e scommi e la possibilità del mazzo è che appunto hai la possibilità con ambito di secciare tutte le carte del mazzo e quindi puoi permetterti di giocare praticamente 20 trappole e non perdere assolutamente di stabilità perchè ti basta pescare un qualsiasi decruder per secciare quello che ti serve e poi e basta certo magari un po' decreto alle volte ti può dare fastidio si decreto sicuramente è una carta forte però comunque non è tanto giocata contro questo mazzo cioè non è tanto giocato in questo meta e poi in modo per torino puoi fare tipo un Kaius puoi fare un un Briona che poi appunto vi sto facendo vedere giochiamo anche le bombe che sono doppio tasto tornato doppia bribe starlight e solenne come hai due due di miner si allora noi giochiamo due di miner uno di side e poi abbiamo cambiato per mettere un'altra carta e lo faccio vedere queste sono indubbiamente le carte più forti del mazzo perchè sono come ho detto l'altra volta sia offensive che difensive perchè quando tipo tu devi scombare lo fai tipo sulle sui parini no? tipo su bottom STT su su mirrorforce qualsiasi su oppression appunto come hai detto tu tantissime cosa? su degredo su degredo su degredo trap stun però ha i bribe sopra raghi e poi bribe è molto forte perchè nel turno nell'avversario la fai tipo su miracolo su futura su tempesta su rftd su solenne la fai su un bottaggio di cose quindi indubbiamente la carta è più forte del suo del mazzo l'unica differenza è che lui giocava una bribe e giocava a 40 e giocava a 41 poi il mazzo è uguale quindi però vabbè perché deve servire soltanto negli spot giusti infatti molto spesso questo side si desidera con i mazzi che giocavano oppression per non dargli lo spot del fatto oppression però ovviamente è molto forte per tutti gli stessi clienti che sono venuto da dire e le ultime due carte la carta più forte del gioco sicuramente in quale il mio amico Ambush 96 si è mandato e assolutamente la carta questa è veramente la carta più forte del gioco e nei mazzi in cui la possono sfruttare qui è devastante perchè ovviamente rimuovi zonbiuntore e mezzuqui li riboni li fa il devorte il attraversario prende fuoco si rende il mazzo e cambia il gioco questa mazza ci sono tre carte più forti del gioco il DALDER FDD e TACI immagini tu senza te e non hai vinto EXTRA allora EXTRA allora non giochiamo allora il EXTRA è molto limitato e abbiamo due rinunciare purtroppo abbracciazionale perchè era l'unico sincro che non facciamo quasi mai e per mettere un'altra carta e sinceramente non mi hai capito tutto da rifarlo quindi vi trovo molto bene così allora abbiamo giocato un solo 5 perchè è quello che fai di meno fai solo con Sangan almeno che di Brand & Mind va benissimo quindi non hai bisogno di altri e poi SYNCRA 6 sono quelli che fai di più sono Brionock che è sicuramente il più forte quello che ti fa partire la combo è quello che ha interazioni più forti perchè sincronizzando con Zombie Goblin aggiungi Mezuki lo scatti di Brionock anche poi fai di SYNCRO quindi vabbè è vero si è vero il pezzo tu con la SYNCRO esatto ovviamente è quello che dà più interazioni è GOIO e poi due SYNCRO ZOMBI allora lui che ovviamente è fortissimo perchè ammazza tutti i flip non li fa partire quindi è devastante contro Vaiuturbo troppo forte contro Frog li ammazzi a rune e non torna in tanti spot è veramente fortissimo e poi è Zombie quindi lo può ribornare di Mezuki e la carta è sicuramente MVP dell'extra assolutamente io prima non so perchè non gioca questa carta ero pazzo lei praticamente quando lo evochi special reborni uno zombie del cimino dell'avversario quindi se lui ha un tore e non se ne accorge perché è la mattina perchè fai lui evochi il suo tore fai un SYNCRO 8 rimuovi Mezuki li evochi lui che è trigger da quando viene con lo special li evochi il suo tore e fai un altro SYNCRO 8 quindi solo con lui fai due SYNCRO 8 e il tuo avversario si può piccare e quindi a posto che succede? che succede? che succede? che succede? che succede che si impiccano esatto considera che tipo ragazzo oggi gli ho fatto ieri gli ho fatto un Book of Life lui aveva un tore e gli ho rimosso un Sepe Drago e lui mi dice ma sei sicuro? e ci sono sicuro guarda ma io che fatti? e poi andiamoci a poi ultimo SYNCRO 6 è lui che praticamente è situazionale per effetto che serve soltanto perchè se hai il DIVA è un 4 di appoggio se hai il DIVA è un livello 4 e praticamente lo usi come PONTE per fare un SYNCRO e poi può essere utile per vincere in partite strade sinceramente l'ho fatto solo per fare da PONTE ci ho vinto ci sta ai BOTTI? no ai BOTTI però dovevo fare tipo 1000 ho picchiato un RICO in di casa però io non l'ho giocato ho messo questo due SYNCRO 7 tra lui e Gaia che ammazza Stardust però lui ha messo in più tanto alla fine è difficile che lo fai per calarne e basta poi SYNCRO 7 allora lui che lo fai con Gale sinceramente mi è capito diverse volte di farlo piuttosto che fare un Black Rose che è l'altro SYNCRO 7 che gioca e basta che è il livello che fai di meno e insomma forte la scelta era fra lui e Bracciazionale ed è molto più ci sono molti più spot dove fai lui piuttosto che Bracciazionale che lo fai SYNCRO 7 e fai MIND su RICO e basta quindi meglio lui che è un po' più forte lo fai più facilmente e poi da noi Black Rose abbiamo già spiegato poi SYNCRO 8 questa è una parte fondamentale del mazzo sono doppio Stardust perché lo fai allora la combo più forte del mazzo letteralmente è fare Stardust 7.5 e quanti ragazzo che ho perso in top point 16 e ne ho partito Stardust 7.5 e mi ha detto che ero ubbricato infatti non ha capito un cazzo però poi ho un amico che ho perso quello ah ti ha fatto Sirocco Gale ti ha fatto Sirocco Gale però per spiegare insomma che quella era la combo più forte del mazzo infatti se avessi fatto un bot e avessi fatto bene però va bene comunque ne gioco due perché lo fai di combo e perché giochiamo una statetta di meno e una di side quindi non ti scherzo che ci vorrebbe il terzo però ne ho solo due posti poi Darkhand anche lui fondamentale lo fai facilmente con con Caius e con non ci vuole il 6 e con questo qua non è tanto non è tanto non è tanto no Caius vabbè comunque è sicuramente fortissimo non puoi farlo a meno e poi lui è fortissimo Iron Man fortissimo e poi la la carta diciamo 3 che giochiamo che è lui quindi praticamente lui dice sia quello con un gemello e un tunnel qualsiasi e quando muore reborni un gemello e gli guadagni l'effetto quindi praticamente tu lo fai con lui è un tore perché contro contro il quini matchup soprattutto contro vaio e soprattutto contro hero è tingo il levabile perché se te lo spacca ha 3000 immortale se te lo spacca reborni il blood con effetto e fai un altro synchro 8 quindi è fortissimo non l'ho fatto tante volte la verità però ci sono alcuni spot in cui è fondamentale perché mi senti semplificato è molto meglio fare lui che Stardust tipo o Architemone perché tipo è il levabile ed è fortissimo quindi ok e poi ultima carta che comunque lo fai ehm riesci a farlo va ti fa vincere a partire è un po' situazionale però non ci sta un giochi ma è il che è il che è la carta più scatto poi sai secondo te come lo possiamo fare un gioco sempre tu un gioco sempre tu un gioco sempre tu un gioco sempre tu allora sai sai è molto studiato allora innanzitutto giochiamo un po' di c'èvolo perché lo sitiamo solo unicamente contro monarca e soltanto e contro match up stranissimi e inoltre è serciabile perché praticamente ti attaccano pomodoro e ho chi sangran quindi ti sangran con lo tributi e si accevi dal mazzo quindi con l'ultima offerta praticamente lo voglia inoltre è pesante quindi comunque giocarne uno va benissimo sinceramente prima giocavamo due e ci siamo resi contro non lo sitavamo mai quindi non puoi perdere qualche cosa io ehm anche perché ormai contro hero frog è diventato un po' no no contro hero frog è forte però nel senso infatti ne sette soltanto uno esatto ne sette soltanto uno nella partita dei due set esatto quindi non puoi pescarne mai due in mano quindi va benissimo così tipo contro vaio non so se ti chiamo perchè se ti chiamo perchè se ti chiamo contro vaio buvino oh un applauso a me per fare la tua volta grazie 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 158 euro ehm esatto esatto e quindi non torniamo assolutamente indietro vanno benissimo questo radio perchè non puoi mai pescarne più di tot ehm questi quali si di contro tutti i matchup che giocano rigo contro sincro cut questa munizial qua questo qua lo mette anche contro frog e questo qua va bene anche contro frog perchè non può fare il miracolo gli rimuovi le rane e quello la vabbè insomma capisco ehm va benissimo così poi allora abbiamo giocato ehm questo e questo allora prima giocavamo al doppio sultanker e poi abbiamo niente dopo non vieni a vedere cosa niente e poi abbiamo deciso di cambiare di giocare un sultanker e un bottex allora qual è la cosa che praticamente no 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 vedi che qua ci siamo bello 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 mezza fanola ehm allora ehm ehm allora questa perchè è fortissima perchè a differenza di schiacciare che magari giocano tante persone, oppure Vortex, ti leva una qualsiasi minaccia scelta, perché alla fine il fatto che lui guadagna Miller non te ne fotte un cazzo, cioè cazzo ne beva. E' fortissima perché forza perde i timing alle carte, quindi la fai sul dupe e perde i rhyming, anche se non è che è così grande. Alchimista perde i rhyming, leva Pachicepro, leva Vani di Fiend, il discorso è che tu se giochi schiacciare contro Monarca praticamente ti fai dupe rock più Vani di Fiend, e tu non puoi togliere i Vani, ti puoi schiacciare perché la dupe ha la difesa più alta. Mentre questo qua ti leva il Vani di Fiend che è la minaccia principale. In più è fortissimo contro Mech perché levi fortezza e non triggera, levi AZ, levi una Cristia, levi un qualsiasi sincrono, insomma, comunque ci siamo trovati molto bene. Però abbiamo deciso di giocarne 1-1 perché praticamente in alcune situazioni ti può servire spaccare più il board rispetto a questo, ne spacca soltanto 1, quindi praticamente hai doppia scelta. E poi comunque in generale con tutte le varie che fai di zombie goblin, sangane, tutte le carte vissarci, hai un mezzurio, uno zombie in torio, un blood, comunque ti sembra un cimitero e quindi diciamo che lo fai quasi gratuitamente, quindi ci sta. Esatto, può essere molto utile invece di avere, hai più scelta, capito? Quindi alla fine la probabilità è la stessa, infatti mi sono tolgo sicuramente molto bene, nonostante me la scoglio. Poi l'ultima magia è appunto Tempesta perché non la giochiamo di main, la scendiamo soltanto in alcuni match up, soprattutto nei match up che giocano Freshon, perché appunto giocando quasi 20 trappole fa molto più male a noi che al nostro avversario. In post-site ci diamo le ultime offerte, ci diamo alcune cose per mettere in raid, quindi alcune scorte più forte. E poi ti siedono quasi sempre Starlight perché alla fine non c'è un cazzo, c'è zombie che non ti fa Black Rose, quindi mi sai sicuramente una scelta che farò sempre. Poi ultime carte abbiamo giocato la seconda Starlight che appunto è fortissima contro Blackwing, la carta più forte assurda, infatti ne volevo giocare te, però lui mi ha detto di certo, alla fine mi ha convinto a giocare una carta diversa, e invece la data terza Starlight ed è forte anche contro Ikiro perché praticamente tu facendo facilmente Brionac li fai, lo rimbalzi, li rimbalzi a Z, li fai Starlight e evochi Stardust. Mentre... Dove è? A 4? Sì, Starlight. Ah sì, Starlight sta dicendo che lo fai su a Z e vabbè capis, evochi Stardust. E poi queste qua che le spiego a mio compagno a Robertino. Ah sì, le devo spiegare io. Ah sì, allora inizialmente Federico non era tanto convinto per giocare questa carta, che doveva essere la seconda Starlight di side, e forse il terzo tasto. Ah, il terzo tasto. Io purtroppo preferisco avere più spot possibili contro mazzi differenti, e notavo che di side contro Blackwing riusciamo a sedare massimo due carte, che potranno essere Starlight, Tempesta, e se proprio vuoi un Soul Tiger per trovare il body che a Blackwing serve sempre a terra. Quindi ho pensato a Bucotrappola per il semplice fatto che, oltre ad essere out a Shura, a Bora, quindi a Blizzard, tutte le normal summon di Blackwing, è anche molto molto forte contro matchup random, che possono essere ad esempio GB, che è un mazzo che dà parecchio fastidio, soprattutto per il fatto che deve sempre avere il mostro a terra per poter fare carro, anche in damage sui nostri recruiter, ci devono sempre risolvere. E altri matchup, come ad esempio, mi sono trovato, in Hero, che comunque non è un matchup random, ma la carta è molto forte, mi sono trovato a sittarlo anche contro Drago, l'ho sittato, perché spesso e volentieri capita che lui ha bisogno di Debris per portare il mostro, per evocare Bionac, fare combo, perché poi da lì farà body, farà dice e tutti i K con un drago bianco, e tu gli fai Pucotrappola su Debris e gli sfuma praticamente quasi tutta la combo. Quindi l'ho trovata molto pulita, onestamente mi è piaciuta e non la cambierai. Ok, mai si è data. Vabbè, non hai mai preso il matchup. Mai si è data perché non hai mai preso il matchup. Tu ti ho preso il matchup. Ultima carta, doppia maschera, che è sicuramente molto più forte di Rappedo attualmente perché non ho capito il matchup di questo gioco. Perché io non ho mai giocato il matchup, tra ogni giorno ho tanto 4 monarchi e sono 3 tiles e un Riza e posso 3 tiles e un Riza. Quindi per dire che il matchup non lo fai su un matchup, mentre questa qua lo fai sia sui monarchi, la fai su Juke, la fai su Subsy Dohad, la fai su Enemy, la fai su Sol, come l'altro ti chiami, la fai anche contro Frog Blunt è forte, è più forte su Bocciolo. La fai su Bocciolo, la fai su qualsiasi cosa, ma sei molto più forte. È vero che il tappeto fai contro Fusoliera, va bene, ok, ma è un gran mazzo di merda. Quindi non sei buon cazzo. Non è d'accordo lui. Infatti, quanto ha fatto? Allora, 15 ratte di 6, 13 ratte di 6, 13 ratte di 6, allora, a posto, sono contento alla fine per il risultato, ripeto, quindi... Ieri non eri contento, però? No, vabbè, ma neanche c'è, nel senso, mi aspettavo molto, mi aspettavo molto di più, sinceramente. Non mi aspettavo di perdere il top 6, però è capitato, è successo. Quindi ringrazio ancora tutti i ragazzi, Duzio Dino, che è qua con noi, Mefetto, Bettino, Alessio, Danilo e gli altri ragazzi che non ci sono, e tutti i ragazzi del Prolus, i ragazzi del SDG che hanno fatto il torneo, e tutta la comunità di Messina, che comunque mi hanno mandato tutti i messaggi, bravo, cliente, insomma, però, beh, apprezzo, ovviamente apprezzo. Seguite la pagina, mi raccomando, il Amazon Format Messina, il local più grande, i giorni più grandi in Italia, mi raccomando, di Edison, in assoluto, e i regionali più grandi d'Europa, che organizzo io, io vivo il Messina, c'è come c'è dei messieri, e in vivo, ha detto, l'ha detto, e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo torneo, a settembre, mi raccomando, l'organizzazione regionale, ogni persona che vengono è un grande 3 euro, quindi mi raccomando. Perfetto. Quindi, alla prossima, ciao. Ciao.